Moto contro auto muore un uomo di 46 anni Pietro Donofrio era finito con la sua aprilia contro una macchina in sosta all'ingresso di Bonefro incidente martedì è morto in ospedale a Termoli per le ferite riportate i misteri della villa di frattura il governatore impedisce l'accesso a una famiglia che aveva affittato un appartamento nello stesso stabile dove si trova in vacanza a Termoli e viene denunciato l'emergenza al lavoro non va in ferie cgl will davanti alla sede della giunta regionali hanno sottoscritto un documento sulle vertenze aperte lo hanno consegnato all'assessore Petraroia si faccia qualcosa presto dicono caldo vento e incendia raffica e emergenza soprattutto in basso molise con diversi roghi a Tavenna disposta all'evacuazione di alcune case intanto in protezione civile si lavora a ranghi ridotti calcio di serie di squadre in preparazione al lavoro prima della pausa di ferragosto oggi ad agnone al civitelle il quadrangolare con protagonisti 40 migranti il campo basso a san salvo vince 4 a 0 in un test amichevole buon pomeriggio benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale come avete sentito nei titoli apriamo con la cronaca non ce l'ha fatta purtroppo il motociclista di 46 anni di Bonefro che martedì sera si è schiantato con la sua aprilia contro un'auto in sosta all'ingresso del paese Pietro Donofrio è morto all'ospedale di Termoli per le gravi ferite riportate nell'incidente si trova invece ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale cardarelli di campo basso il giovane di 29 anni di casa calenda precipitato a bordo di un furgone sulla bifernina sentiamo fabrizio occhio nero si è schiantato con la sua moto contro un'auto in sosta all'ingresso del paese gravissime le ferite riportate nell'incidente tanto che dopo un giorno di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Termoli il cuore di Pietro Donofrio 46 anni di Bonefro ha smesso di battere per cause da accertare l'uomo era appena entrato in paese quando ha perso il controllo della sua aprilia ed è finito contro la Fiat Panda parcheggiata sul lato della strada indossava il casco ma nella caduta a terra ha riportato un politrauma ed è stato trasportato al Santimotio dove è stato operato poi il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dove i medici hanno cercato in tutti i modi di salvarlo ma il quadro clinico è peggiorato e il motociclista è morto sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bonefro che hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni residenti per accertare la dinamica dello scontro Pietro Donofrio faceva l'opera ed era molto conosciuto a Bonefro paese dove era tornato dopo tanti anni di lavoro in Germania e in Italia si spera ancora invece per un artigiano di 29 anni di casa calenda precipitato con il suo furgone in una scarpata sulla Bifernina il giovane si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso per lui la prognosi resta riservata. E poteva finire in tragedia l'incidente in cui ieri sera sono rimasti coinvolti otto ragazzi di San Salvo tutti minorenni per cause da accertare il gruppo si trovava a bordo di un furgone che è finito in una cunetta della zona industriale del centro abruzzese in sei sono stati trasportati agli ospedali di Termoli e Vasto per le cure del pronto soccorso con escoriazioni e alcune ferite sull'incidente indaga la polizia che dovrà chiarire anche chi si trovava alla guida del pulmino. Polizia, carabinieri e guardie giurate armate alla residenza estiva Termoli del presidente della regione Paolo Frattura. Il governatore impedisce l'accesso a una famiglia che aveva regolarmente fittato un appartamento nello stabile e viene così denunciato. Ci racconta questa vicenda ma anche il retroscena Giovanni Minicozzi. Pausa estiva burrascosa per il presidente della regione Paolo Frattura che si trova in villeggiatura nella sua residenza estiva ubicata sul lungomare nord di Termoli. Nei giorni scorsi ci è giunta una segnalazione secondo la quale il governatore in persona avrebbe impedito l'accesso allo stabile di una inquilina che aveva regolarmente preso in locazione un appartamento nello stesso stabile della villa Frattura ma di proprietà di altri privati cittadini. La malcapitata è stata costretta a rivolgersi ai carabinieri di Termoli i quali hanno temporaneamente permesso all'affittuaria di entrare nel suo appartamento. Il giorno successivo però l'episodio si è ripetuto e nonostante l'intervento della Polizia di Stato giunta sul luogo al posto dei carabinieri ai quali si era nuovamente rivolto alla cittadina è stato tassativamente impedito alla stessa di poter accedere nella sua abitazione e tuttora non riesce ad entrare. La villa infatti è rimasta ermeticamente inaccessibile e addirittura presidiata da guardia armata come testimone a questo cartello. La stessa guardia giurata ha dichiarato di aver ricevuto ordine perentori dal presidente Frattura per impedire l'accesso a persone a suo dire non autorizzate. La vicenda avrebbe determinato la presentazione di un esposto nei confronti dei proprietari della villa per returbativa violenta del possesso di cose immobili. La stessa villa apparterebbe per il 50% alla società PTS Village di Gianluigi Torsi e per la restante metà alla società Proter che fa capo al presidente Paolo Frattura. Peraltro secondo i vecchi proprietari lo stabile composto da circa 700 metri quadri di fabbricato e circondato da 2.500 metri quadrati di terreno sarebbe stato acquistato ad un prezzo irrisorio a fronte di un valore commerciale pari a circa un milione e mezzo di euro. La circostanza, se fosse vera, sarebbe davvero strana e meritevole di adeguato approfondimento. Fermo restando l'accertamento dei fatti da parte degli organi competenti su quella che appare una banale elite condominiale, resta da chiarire il rapporto tra il presidente Paolo Frattura e l'imprenditore Gianluigi Torsi su eventuali intrecci tra politica e affari. Resta anche da capire come mai in tempi di totale distacco delle istituzioni dai cittadini il presidente della piccola regione molise Paolo Frattura nel suo meritato periodo di riposo al mare decida di far sorvegliare lo stabile da lui occupato da una guardia armata piuttosto attenta a controllare gli accessi perfino di coloro che si dichiarano legittimi affittuari di un appartamento. Da parte nostra ci chiediamo semplicemente perché il molisano più importante come il presidente della regione impedisce ad una famiglia che ha sottoscritto un regolare contratto di locazione di poter utilizzare quell'appartamento? L'emergenza lavoro non va in ferie. Alla vigilia di Ferragosto i sindacati di categoria di CGL e Will hanno consegnato al vicepresidente della giunta regionale Petraroia un documento che contiene le tante troppe vertenze aperte. Ci dice tutto Anna Maria Di Matteo. Un documento zeppo zeppo di vertenze aperte lo hanno sottoscritto e poi consegnato al vicepresidente della giunta regionale Petraroia. Pasquale Guarracino della Wiltux e Franco Spina della Fircams CGL hanno scelto il totem della regione per apporre le firme al documento. Firme che rappresentano la richiesta di aiuto al governo regionale di centinaia e centinaia di lavoratori molisani di decine e decine di attività commerciali ed industriali che ancora resistono la crisi e che non vorrebbero arrendersi. Alla vigilia di Ferragosto davanti ad un palazzo della regione praticamente vuoto per le ferie estive, i due rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa per ricordare al presidente Frattura che l'emergenza lavoro non va in ferie. Noi oggi firmiamo un protocollo sul lavoro di Filcams e Wiltux dove rivendichiamo una serie di questioni che ormai sono sospese da troppo tempo, alcune dove invece la politica molisana non ha proprio ritenuto importante risponderci. Quindi noi oggi parliamo di emergenza lavoro, noi vorremmo davvero che venisse messa nell'agenda politica all'emergenza lavoro ma non soltanto come discussione in consiglio regionale o comunque a qualsiasi livello politico ma dove si vada a definire proprio alcune cose in maniera precisa dove si risolvano le vertenze più importanti dove anche quelle molto semplici cioè ci sono vertenze in questa regione che sono a portata di mano e non si capisce per quale motivo invece non si trova una via d'uscita. Mi viene in mente Sattorie dove aspettiamo soltanto un bando dove è stata concordata una clausola occupazionale che poi vogliamo assolutamente vedere se è uguale a quella concordata e quindi mi sembra una cosa abbastanza semplice cioè che una cosa concordata venga resa nota. Invece questa regione non accade così come Corai che in aus al 100% in regione molise non viene presa in considerazione o come tutta la vertenza della vigilanza. Insomma c'è bisogno effettivamente in questo ferragosto di ragionare oltre a prendere il sole e soprattutto di pensare veramente a risolvere i problemi dei lavoratori che ormai sono all'osso. Secondo lei la marcia per il lavoro organizzato il 28 giugno ha avuto i suoi effetti? Ma comunque è servito ad accelerare su alcuni percorsi. Pensiamo ad esempio al contratto d'aria tra i vari punti parte proprio dal presupposto che dopo la marcia del 28 c'è stato insomma comunque un intervento, uno scossone. Quindi qualcosa di buono sicuramente c'è stato. Molte però delle perplessità, delle preoccupazioni nostre ancora non sono state raccolte e la maggiore preoccupazione nostra è il futuro, lo sviluppo e il lavoro. Tra quelle aziende che sono in crisi ci sono molte in particolar modo dei nostri settori, penso a Molise Dati, a Esattorie, a Corai, ad altre attività che possono essere risolte anche agevolmente. Qui non vediamo la presenza della regione. E la CGL continua il pressing anche sulla questione scuola, sui tagli agli organici, ma anche su una riorganizzazione del sistema dell'informazione. Dice, sentiamo. I diritti non vanno, ne possono mai andare in ferie. La Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL tiene alta la guardia su come affrontare la questione scuola, istruzione, precariato, tagli agli organici e ai fondi. Il 10 settembre si avvicina con la riapertura degli istituti. I problemi restano. Il sindacato richiama in Molise a un'assunzione di responsabilità reciproca e collettiva. Il sistema pubblico di istruzione sostiene è fortemente compromesso in regione. Le risorse per migliorare l'offerta formativa sono state dimezzate. In complesso in Italia sono stati tolti 350 milioni per il recupero dello scatto di anzianità del 2012. E questo anche da noi rende impossibile realizzare attività aggiuntive, potenziamento e recupero. La CGL evidenzia che sono stati ridotti anche i finanziamenti per le aree a rischio educativo. Alla giunta regionale, dice ancora il sindacato, abbiamo chiesto di fare la sua parte sulla legislazione. Secondo la CGL manca una politica di riordino della formazione professionale. Non c'è un quadro strategico sul ruolo da dare all'istruzione tecnica superiore. Bisogna rivedere il piano di dimensionamento. Manca una politica regionale sull'edilizia scolastica. Come ricordano alcuni sindaci, in sostanza non sono state fatte scelte coerenti su istruzione secondaria e formazione professionale. Sempre il sindacato ricorda ancora di aver chiesto al prefetto di Campobasso di convocare un tavolo interistituzionale, ma sottolinea tutto si è risolto in una comunicazione fatta alle istituzioni. Al presidente della provincia spiega ancora la CGL, abbiamo chiesto di attivarsi per trovare risorse necessarie a far funzionare le scuole di propria competenza. All'ufficio scolastico abbiamo chiesto regole chiare sugli adempimenti di inizio anno, di affrontare i problemi legati alla presenza degli LSU nelle scuole. Occorre che tutti facciano la propria parte per garantire un buon sistema di istruzione, ribadisce la CGL, premessa per una ripresa produttiva e occupazionale in Molise, ma conclude con amarezza di questo non c'è traccia nella richiesta di area di crisi avanzata dalla Regione. Interrogato a Larino, il rumeno di 44 anni arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver colpito con una coltellata al volto la ex moglie. L'uomo che deve rispondere del reato di lesioni gravissime ha risposto alle domande del giudice Maria Paola Vezzi e ha fornito la sua versione dei fatti. Al termine dell'udienza il GIP ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il basso Molise soprattutto è divorato dalle fiamme. Dalla scorsa notte si registrano roghi in diversi punti del territorio. Il più grave è a Tavenna, intanto la protezione civile è ridotta all'osso. La sola non riesce più a fronteggiare le emergenze provocate dalle alte temperature e le servizio di Anna Maria Di Matteo. Il basso Molise è in fiamme. Dalla scorsa notte i vigili del fuoco forestale e di pochi uomini rimasti in forza alla protezione civile sono impegnati su più fronti per domare i numerosi incendi che sono divampati in diversi comuni. Il più grave è a Tavenna, dove intorno alle tre del mattino un incendio alimentato dal forte vento ha costretto il sindaco ad evacuare diverse abitazioni. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono proseguite per tutta la notte. Solo questa mattina le fiamme sono state completamente domate. Questa notte abbiamo avuto una grossa emergenza sul comune di Tavenna. Il sindaco Iore ha evacuato circa 4-5 famiglie in località Vito Vico Cappella e Corso Umberto I per una precauzione. Dopodiché è attivata la sala operativa regionale. Insieme ai vigili del fuoco sono stati i primi ad intervenire insieme al corpo forestale, anche delle nostre squadre di protezione civile. Che era successo? È un grosso incendio. La zona è molto ventilata e ci aspettiamo in questo pomeriggio che la cosa magari possa prendere anche in altre parti del basso Molise in particolare. Quindi la zona era molto ventilata e i vigili del fuoco sono intervenuti sia da Santa Croce che da Termoli con le squadre ordinarie e addirittura hanno fatto richiesta a un loro velivolo dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Quindi un elicottero sta nelle prime ore dell'alba intervenuto e ha dovuto operare dei lanci. Non sappiamo la quantità. Petacciato, Campomarino, Portocannone, Rotello, Ururi impegnati sul territorio i vigili del fuoco e la forestale. Una situazione di piena emergenza contro la quale tentano di combattere anche i pochissimi dipendenti rimasti all'Agenzia regionale di protezione civile. Queste immagini dimostrano in maniera eloquente lo stato di abbandono in cui si trova l'agenzia. Due soli operatori di turno affiancati dai vigili del fuoco e corpo forestale. Pochissime le postazioni rimaste per giunta vuote. Non solo. In caso di emergenza idrica la protezione civile non potrebbe intervenire avendo le autobotti in riparazione. Questa è la versione ufficiale mentre secondo indiscrezioni i mezzi non potrebbero viaggiare perché sprovvisti di revisione. Tutto questo in un periodo come quello estivo in cui si sa le emergenze legate alle alte temperature sono all'ordine del giorno e alle quali la protezione civile chiusa per ferie si potrebbe dire da sola non potrebbe far fronte. A Pozzilli un allevatore ha vissuto momenti di autentico terrore. Un branco di lupi ha sbranato due pecore davanti ai suoi occhi e non è la prima volta che accade. Sempre più spesso infatti questi animali vengono avvistati nella periferia del paese. Sergio di Vincenzo è andato sul posto. Paura sola, mi stava morendo per la paura. Solo paura e basta. Perché ne erano quattro, mica ne è uno. Un incontro ravvicinato da brividi, quello che ha avuto suo malgrado per protagonista Angelo Forte, allevatore di Sesto Campano. Un branco di lupi ha aggredito e sbranato due pecore davanti ai suoi occhi. È accaduto a Pozzilli, a una manciata di metri dalle prime abitazioni del paese. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Anche un mese fa i lupi avevano ucciso altre quattro pecore di sua proprietà, ma stavolta è stato diverso. Quel faccia a faccia con quelle bestie feroci non lo dimenticherà mai. La sera quando sono venuto qua, verso le otto, le otto e mezzo, mi sono donato che gli animali ci mancavano. Poi gli ho trovato una via, una via, una via, le carcasse mangiate e una c'è trovato quattro lupi vicini. Mi cazzo nemmeno, si arregnavano come gli cani, perché si volevano ruotare. Mi hanno reagito e si ruotavano, si arregnavano come gli cani e si ruotano. E poi verso le nove, le nove e mezzo, mi sono venuto vicino la rete vicino i ricini, le pecore, una volta. Quando sono stati, fino a che gli è riuscito a allontanare, poi verso le onde ci sono venuto una volta. L'allevatore ha tentato di allontanare i lupi, anche i suoi cani ci hanno provato, ma è stato tutto inutile. E le cani si ruotano, ma si ruotano, ma si ruotano, si ruotano, si ruotano pure le cani perché sono sai e sono grossi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'episodio è stato segnalato anche agli uffici dell'ASREM e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Da quando ha cominciato a fare l'allevatore, al signor Angelo Forte i lupi hanno ucciso una cinquantina di animali, anche vitelli, ma nonostante le richieste di risarcimento non ha avuto alcun rimborso. Ho presentato le domande, però non ho avuto nessun risarcimento fino a ora. Le domande che le ho fatte due anni fa ancora non mi hanno risarcito nessuna domanda. Destituite di fondamento le notizie di doping e maltrattamento agli animali alla carrese di San Martino in Pensilis ad affermarlo in una secca nota la Fondazione San Leo. Sentiamo Pasquale Di Bello. Con una nota secca e stringata, la Fondazione San Leo di San Martino in Pensilis ha smentito le notizie messe in circolazione nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa. Quelle relative al presunto doping e all'altrettanto presunto maltrattamento di animali che si sarebbe verificato in occasione dell'ultima edizione della carrese e che sarebbe stato appurato dai controlli effettuati dai NAS al termine della manifestazione del 30 aprile scorso. Delle due luna o la notizia è inattendibile e non se ne comprenderebbe la ragione della messa in circolazione o la notizia è vera e ci troveremmo allora davanti alla ormai classica fuga di notizie che rende noto al pubblico prima ancora che agli interessati l'esito di un'indagine. Ciò detto, la Fondazione San Leo precisa che nessuno tra i partecipanti alla carrese di tutti e tre i carri giovanotti, giovani e giovanissimi, ha ricevuto un avviso di garanzia contenente le ipotesi di reato di cui si è detto. Sulla carrese ormai da anni va avanti il braccio di ferro tra il popolo san martinese e le frange animaliste più estreme che vorrebbero la chiusura di una manifestazione che vanta secoli di storia e che, contrariamente alla vulgata animalista, è basata su un estremo rispetto e amore tra uomo e animale. Numerosi sono stati nel corso degli anni gli interventi sacrosanti per salvaguardare gli animali, buoi e cavalli, a cui durante tutto l'anno vengono garantite cure veterinarie costanti e un'alimentazione specifica, oltre che test, controlli e allenamenti. Quello che è mancato e a cui sapientemente stanno ponendo rimedio la Fondazione San Leo, la parrocchia e l'amministrazione comunale, è una comunicazione adeguata all'importanza della manifestazione. Uno dei segnali di quanto si stia lavorando per far conoscere correttamente ogni proprio aspetto della carrese è la visita che i tre carri e la comunità san martinese faranno a Papa Francesco il 29 ottobre prossimo. Quel giorno cavalieri e carrieri, accompagnati da migliaia di cittadini, saranno in piazza San Pietro per un incontro col pontefice. I tre carri addobbati sfileranno in via della conciliazione per approdare tra le braccia del colonnato del Bernini. Una giornata di gioia e di festa, di esaltazione del rapporto di armonia che esiste nel creato e che tiene insieme tutti gli esseri viventi, persone, animali, natura, così come la carrese col proprio fascino testimonia da centinaia e centinaia di anni. Sulla costa è tutto pronto per il ponte di Ferragosto. Sono migliaia le presenze previste nei prossimi giorni nelle località di villeggiatura dove diverse strutture registrano già il tutto esaurito. A lavoro gli stabilimenti balneari e ristoratori che offriranno il classico pranzo a base di pesce fresco nonostante il periodo di fermo e hanno organizzato molte attività di svago e divertimento. Sono numerosi gli eventi in programma per tutta la giornata a Termoli, Campomarino Lido e alle marine di Montenero e di Petacciato. Traffico intenso sull'autostrada 14 e i principali collegamenti della regione dove le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato l'ospite d'onore della manifestazione Noi Artisti di Questa Terra, organizzata da Antonio Molino a Montorio nei Frentani, un'occasione per ribadire la volontà di portare all'Expo di Milano l'opera dell'annunciazione conservata nella chiesa del paese. L'opera più rappresentativa dell'arte del Molise saprà difendersi all'evento mondiale, ha affermato Sgarbi. Lo ha intervistato Fabrizio Chionero. Una piccola regione può aprirsi come uno scrigno che conserva delle opere capaci di esprimere valori universali. Secondo il critico d'arte Vittorio Sgarbi, l'annunciazione di Montorio nei Frentani a tutti i requisiti per dare al Molise la giusta visibilità in un evento di risonanza mondiale come l'Expo che nel 2015 si svolgerà a Milano. Una pala d'altare, opera di Teodoro Del Rico della fine del 1500 che Sgarbi, ambasciatore dell'arte dell'evento accompagnato dall'architetto Franco Valente, vuole portare all'esposizione universale un intervento appassionato per illustrare l'opera davanti al pubblico attento e numeroso di noi artisti di questa terra. Vi ringrazio, sono venuto molto bene, tra l'altro avevo deciso di prendere l'opera conoscendola in buone riproduzioni, è la prima volta che la vedo ed è stato un certo viaggio, l'avevo valutata più vicina venendo da Piacenza a Montorio, questo l'avevo messo sette ore, insomma è valso la pena, l'opera è veramente importante e spero che nel padiglione dell'Expo faccia veramente vedere il Molise attraverso cose così preziose che meritano di visitarlo. L'evento, giunto alla diciottesima edizione, è stato organizzato con impegno dal coordinatore artistico Antonio Molino. Musica, spettacolo, il Molise che si distingue in Italia e all'estero come l'ambasciatore italiano in Francia Gian Domenico Magliano. L'iniziativa di storia patria, l'iniziativa di valorizzazione del passato ma anche il presente e anche dei giovani, quindi Montorio qui oggi è un po' il centro del Molise, il centro di un progetto. Riconoscimenti per l'impegno dedicato al territorio all'arcivescovo di Campobasso Boiano Gian Carlo Brigantini e al vescovo di Termoli Larino Gianfranco De Luca. Sul palco si esibita l'orchestra Magliano dell'Istituto Comprensivo di Larino invitata da Vittorio Sgarbi ad esibirsi proprio all'Expo di Milano dopo la vittoria al Festival Internazionale di Sanremo. Poi Tiziano Palladino al mandolino, Isidoro Nugnes alla chitarra, il progetto in prosa e musicale del gruppo Cantea ma anche Hip Hop e Break Dance con le coreografie curate da Maria Pierecchi e Paola Donofrio. Vogliamo valorizzare il nostro territorio, i nostri artisti ma la cosa più bella vogliamo anche portare i grandi eventi nelle piccole comunità, un lavoro che stiamo facendo e mi sembra con il pubblico che è intervenuto negli anni passati e anche questa sera numerosissimo, intelligente e appassionato per la nostra manifestazione, penso che questo progetto merita veramente attenzione anche da parte delle istituzioni perché lavoriamo volontariamente ma con amore per la nostra terra. Castel del Giudice rilancia la sfida di creare un'immagine bella e attraente di sé, lo ha fatto tramite la realizzazione di un gioiello meladoro del maestro d'arte orafa Franco Cocco Palmeri molto noto di Roccaraso. Il gioiello è stato presentato nel borgo Tufi del Paese dell'Altissimo Molise, il sindaco Lino Gentile ha detto che quest'opera rappresenta la comunità e guarda il futuro del territorio. Ho realizzato meladoro, ha raccontato Cocco Palmeri, inserendo il simbolo dell'infinito seppur stilizzato come ideale del superamento dell'immaginabile in parallelo a quanto fatto da Castel del Giudice grazie alla produzione delle mele e alla prossima nascita dell'albergo diffuso. Sarà Luca Capuano, attore di successo, protagonista di molte fiction in tv e impersonare il Duca nella ventesima edizione di Frammenti d'Antico organizzata a Bagnoli del Trigno dalla compagnia di cultura popolare La Perla del Molise. Capuano ha conquistato una grande popolarità grazie ai ruoli interpretati in cento vetrine, le tre rose di Eva e che da settembre sarà nel cast della nuova serie dei Cesaroni. Nelle vesti della duchessa sarà invece la splendida Marta Gragnano Miss Molise 2013. La sfilata del Duca e della Corte si svolgerà come da tradizione lunedì 18 agosto, giornata in cui sono previsti anche tutti gli altri appuntamenti clou nel cartellone della manifestazione tra i quali la discesa della fata a mezzanotte, la serenata alla sposa e l'incendio artistico del castello San Felice. Sono diverse anche le novità in programma come la rievocazione storica sannitica del Versacrum prendendo spunto dalle pagine del romanzo storico di Nicola Mastronardi Vitelliù in nome della libertà. Il nome della libertà sabato 16 intanto alle 21 e 30, dalle 21 e 30 in poi saranno rappresentate delle scene ispirate al memoriale di Nicola Pascasio del 1738 che culmineranno in una festa popolare aperta a tutti. A Frosolone è stato riproposto invece il rito della forgiatura, l'arte della lavorazione delle forbici e dei coltelli che per secoli ha contraddistinto gli artigiani locali, le servizio. Almeno per una volta l'anno nel centro storico di Frosolone torna a sentirsi il suono familiare prodotto da incudini e martelli. In largo vittoria è stata infatti riproposta l'arte della forgiatura. Gli artigiani locali insieme ai colleghi provenienti anche da altre regioni hanno dato un saggio delle loro capacità. L'iniziativa è stata organizzata dalla Proloco con il chiaro scopo di tenere alta l'attenzione su una grande tradizione frosolonese. La forgiatura è un po' la nostra storia, la storia dei coltelli, la lavorazione dell'acciaio, tradizione qui da parecchio tempo a Frosolone e quindi fa parte veramente della nostra storia. E oggi come ogni anno c'è questa forgiatura che rappresenta un po' un appuntamento di quest'estate frosolonese e legato veramente tutto alla nostra storia. Fino a qualche decennio fa queste scene erano la norma nelle botteghe di Frosolone. Oggi le cose sono inevitabilmente cambiate ma questa vera e propria passione fortunatamente resiste, anche grazie a chi si impegna a tramandare i segreti del mestiere alle nuove generazioni. L'unica risorsa per sopravvivere. Ci stavano oltre 100 botteghe di artigiani che tutte le mattine si alzavano e forgiavano. Diciamo che oggi non è più così perché i tempi sono cambiati, ci stanno delle aziende, più di qualcuna, che questo lavoro viene fatto diversamente con le attrezzature. Comunque è una cosa molto importante perché Frosolone è stato sempre conosciuto come questo, diciamo, centro-sud, è l'unico paese produttore di coltelle di forbici. Una cosa è però certa, l'arte di lavorare metalli. Le forbici e coltelli che prendono vita a colpi di martello continuano ad affascinare le persone che osservano i maestri all'opera. Sicuramente è interessante anche perché si torna agli antichi mestieri che l'Italia è stata, diciamo, all'avanguardia rispetto al mondo d'oggi. È vero che i cinesi ci stanno copiando, però l'Italia è sempre l'Italia e fa bene vedere queste cose. A me personalmente sembra di essere tornata piccolina, anche se non ho mai visto la forgiatura, però avendo usato gli arnesi fatti, appunto, battuti con il ferro rovente, di conseguenza mi fa piacere per me tornare un po' alle origini. Questa sera appuntamento con le stelle al castello di Miranda per una serata all'insegna di astronomia, musica jazz e cucina d'autore. L'iniziativa dal nome Il cielo con un dito è stata organizzata da un gruppo di giovani di Miranda. Con il fine di valorizzare il centro storico saranno messi a disposizione dei visitatori dei telescopi per l'osservazione della volta celeste. Invece l'Associazione Culturale Borgo Medievale di Vasto Girardi questa sera apre è la settima edizione di Degusto, l'appuntamento enogastronomico con la cucina tipica molisana. Parteciperà anche l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, che ha selezionato i vini di sei cantine molisane. Sempre questa sera ma a Santa Gapito, appuntamento con la storia dei matrimoni in costume del Molise. Sfileranno infatti in costume d'epoca numerose coppie di giovani che ripercorreranno la storia e l'evoluzione del giorno più bello della loro vita. In chiusura di TG ci occupiamo, come sempre, dei nostri amici animali. Intanto i due cani per i quali avevamo fatto l'appello bianca e nero, che si erano smarriti a termoli due giorni fa, sono stati ritrovati sani e salvi grazie alla bellissima rete di solidarietà attivata su Facebook e grazie all'impegno dell'Associazione Protezione Animali APAC di Campobasso. Ora però è necessario mobilitarsi per riportarne a casa un altro. Eccolo, lo vediamo. Qui nella foto è un bellissimo meticcio di un anno, risponde al nome di Alvin, ha il pelo medio-lungo, indossa un collare di cuoio marrone con borchie argentate a forma di osso. Possiede anche il microchip, si è smarrito venerdì scorso nei pressi dell'ospedale Cardarelli, in contrada Tappino, dove è stato visto per l'ultima volta intorno alle 10 del mattino a Campobasso. È giocherellone e non ha problemi a seguire chi lo avvicina. La famiglia è disperata, aiutatela a ritrovarlo. Per ogni informazione potete come sempre contattare la nostra redazione di Telemolise. È tutto, termina qui il TG delle 14. Dopo la sigla le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport, noi ci rivediamo per l'edizione delle 15. Buon pomeriggio. Grazie.